Musica Benvenuti al consueto appuntamento con la nostra rubrica. Nonostante questo assaggio di primavera, anzi di estate, non sappiamo quanto sarà definitiva. Noi siamo qui stoicamente con il presidente della provincia di Bari, Francesco Schittulli. Benvenuto. Grazie. Stoicamente o storicamente? Stoicamente per il momento. Senza errore. Io la moscia. No, infatti, infatti. Lo dico con una punta di rammarico perché devo dire che è un po' difficile riuscire a lavorare con queste belle temperature ormai estive. Avremo modo, avremo tempo. Allora, 080 501 9998 per intervenire in diretta oppure, come di consueto, vi do la nostra mail di lo schittulli-chiocciolatelebari.it. Parliamo di un tema di grande attualità ormai perché devo dire che è stato un po' il tormentone di queste trasmissioni da qualche mese or sono. Parliamo dell'abolizione delle province. Anche la BCE ha in qualche modo premuto sul Premier Monti affinché si procedesse con l'eliminazione. Anche se in realtà non si parla proprio di eliminazione vera e propria o soppressione delle province, ma è stato un po' corretto il tiro. Si parla di razionalizzazione delle province che permetterebbe tra l'altro un risparmio di 5 miliardi di euro perché allo Stato solo nel 2010 le province sono costate 12 miliardi di euro. sulle casse dello Stato abbiamo 101 province, se non ricordo male, 110 in totale, oltre 4 mila amministratori. Quindi devo dire che si parte verso una razionalizzazione che può essere utile intanto per il risparmio, però non vuole cancellare. Non sono i costi dei rappresentanti della politica, perché i rappresentanti della politica, per esempio un consigliere provinciale della provincia di Bari, costa 1000 euro al mese, diamo i numeri esatti. Quei costi si riferiscono ai servizi che la provincia offre e che comunque saranno svolti da altri enti. Chiamiamoli come vogliamo, però ci saranno altri organismi, altri enti, di nominati, di politicizzati e quant'altro che sostituiranno le province. Io credo che sia un comportamento anomalo, insomma. Per la razionalizzazione io sono dell'avviso che quella andrebbe fatta se fosse seria. Sai dire che significa? Nella nostra realtà, nell'ambito della nostra regione, per esempio, invece di 6 province ne basterebbero 3 province. Siccome abbiamo oltre 4 milioni di abitanti, circa 4 milioni e mezzo, ogni provincia dovrebbe avere 1 milione e mezzo. Quindi era inutile fare la BAT. Basta una provincia Brindisi, Lecce, Taranto, un'altra provincia può essere Bari e l'altra BAT Foggia. Insomma, ci si può arrivare a questa sorta di razionalizzazione. L'ha detto anche il Piemonte, che abbasserebbe a 4 province rispetto alle attuali 8. Ma quello che va rivisitato, secondo me, è il sistema proprio regionale. Perché noi abbiamo delle regioni con 600 mila abitanti, come la Basilicata, oppure meno di 300 mila abitanti, o massimo 1 milione e mezzo come le Marche, 900 mila è tutta l'Umbria, il Molise meno di 400 mila abitanti. Dice lo spepero vero, perché poi queste regioni gestiscono delle risorse economiche e finanziarie immense, hanno il potere di gestire, di creare enti, di società, autorità, agenzie e quant'altro ognuno possa pensare. Bisognerebbe intervenire e razionalizzare tutto il sistema regionale, togliendo, per esempio, le regioni a statuto speciale, perché non hanno più motivo d'essere. Stiamo in Europa, 5 regioni su 20 a statuto speciale, con un impegno di risorse economiche fuori dalla portata logica, che superano addirittura le regioni normali. C'è da rivedere tutto il sistema, anche quello parlamentare ci sarebbe da rivedere. In questo nuovo processo di accorpamento sicuramente la provincia di Bari credo che non perderebbe quantomeno la sua identità e il suo ruolo, soltanto che quando si parla di accorpamento, si parla in questo futuro processo che vede un nuovo ruolo delle province, si parla quasi di una naturale prosecuzione di quello che i comuni fanno, quindi modificando anche la mission che in questo momento ha la provincia di Bari. Come vedrebbe questo nuovo ruolo della provincia, quasi fosse un braccio destro dei comuni? Ma già non esistono, non c'è un'intesa tra i vari comuni, è difficile metterli insieme. Mettere poi un'autorità che debba essere superiore ai comuni, però si deve interfacciare con la regione. Io credo che sia un pasticcio, o come si dice a Bari, un ciambotto, che non ha nulla di pratico, di evidente. Poi si parla di questa regolamentazione delle province, le dieci aree metropolitane, le dieci città metropolitane, Bari che è una delle dieci. Guardate, c'è una razionalità sconcertante, che è basata più su interessi di basso livello politico, partitico, che non di ampio respiro, invece, istituzionale, è a favore della comunità. 085-019998 per intervenire in diretta. Parliamo invece dell'altro grande tema che forse fa molto più breccia nel cuore dei cittadini, stiamo parlando dei costi della politica. Diciamo che la provincia di Bari, proprio qualche giorno fa, ha dato dimostrazione di come si possa andare in conto alle esigenze e alle richieste, credo legittime, dei cittadini che si stanno vedendo mettere le mani in tasca da questo governo. In qualche modo si chiede anche uno sforzo e un impegno da parte della politica, piccoli sacrifici che però possono essere simbolici, sono stati fatti dalla provincia di Bari, che ha chiuso, intanto ha razionalizzato il parco macchine della provincia e poi ha chiuso anche il parcheggio interno, che non potrà più essere utilizzato, diciamo essere di pertinenza delle auto private, di chi opera in provincia di Bari. Sì, abbiamo cercato di, ma questo è stato un obiettivo che ci eravamo prefissi sin dall'iniziadiamento, cioè quello di razionalizzare tutto il sistema provincia, di renderlo più efficiente, più efficace, di renderlo più a portata dei cittadini e allo stesso tempo di andare in conto dei risparmi. Per i risparmi, quanto oggi prevede e dice il governo Monti, nel piccolo la provincia di Bari l'ha già attuato, l'ha già messo in atto da due anni. Questa amministrazione lo ha fatto da appena si è insediata, e cioè quella di razionalizzare tutti i servizi, di accorparli, di stringere, di non debordare, di non andare oltre lo stretto necessario, di impegnarsi di più in questo. Abbiamo poi informatizzato tutto il sistema provincia, fra qualche settimana, quando dico qualche settimana intendo dire certamente prima dell'estate, di questa estate, certamente prima dell'estate ogni atto, ogni delibera, ogni atto di indirizzo sarà pubblicato a stretto giro di tempo, cioè ad oras, sul sito in maniera tale che tutti possano prenderne visione. Quindi sarà un ente dalla massima trasparenza e legalità, cosa che sino ad oggi non è stato. Prendiamo la telefonata, pronto? Sono Nicola De Tuoma, volevo intervenire sulla faccenda della razionalizzazione per la diminuzione delle spese. Io faccio parte del comitato per il discorso del centramento per creare i municipi, però Bari per esempio non si è ancora impegnato da ridurre le circoscrizioni da 9 a 5 municipi, tenendo conto dei due municipi che sono l'ex frazione, cioè Balessi, Stato, Spirito e Carbonale, Cerello, Sero. In più volevo dire è giusto risparmiare, però c'è anche qualcuno che vuole creare un'altra regione, tipo la regione del Salento, che vogliono i Leccesi, i Brindisini, i Tarantini, che stanno cercando col Movimento Iesud e altri di creare le regioni del Salento. Grazie. Grazie per il suo intervento. Questo fa il paio anche con le circoscrizioni decentrate di cui parlava prima, che vogliono l'autonomia. Io credo che sia necessario dare un'autonomia ai municipi e quindi creare nell'amico della città di Bari, la città di Bari e poi invece di 9 circoscrizioni, 5 municipi, dando però delle regole, dei compiti ben precisi, ma questo proprio per avvicinare le esigenze, le aspettative, la domanda del cittadino alla istituzione, in questo caso al municipio. Per quanto riguarda invece le regioni, nel momento in cui si vanno a smantellare le province, le province non esistono di fatto più, ma di fatto, loro dicono ma sai questo è un fatto costituzionale, dovremmo fare 4 passaggi, siccome sono operati di lavoro i nostri parlamentari, 4 passaggi in Parlamento, non ci sono i tempi tecnici. Bene, lasciano il nome provincia, però saranno dei nominati, nominati dai consigli comunali, quindi consiglieri comunali che diventano anche consiglieri provinciali con deleghe zero, perché dovrebbero passare al comune e alla regione e quindi un compito di coordinamento politico, di indirizzo politico, parole praticamente, perché non possono smuovere le province. Allora dico io, nel momento in cui si vanno a fare questo, che ben venga la regione Salento e creiamo un'altra regione, creiamo la regione federiciana, ho detto io, cioè Bari, Batte e Foggia diventano regione federiciana, avremo una dimensione di più di 2 milioni di abitanti, quindi 4 volte, più di 3 volte la Basilicata, 5 volte addirittura il Molise, ma le caratteristiche culturali, storiche, ambientali, paesaggistiche, enogastronomiche del Salento sono diverse da quella federiciana, cioè da Bari, Batte e Foggia. Nello stesso tempo, scomparendo le province, tutto lo scenario regionale potrebbe arrivare a 25 regioni, tutto, perché dobbiamo smuovere l'Umbria e le Marche non hanno più motivo d'essere, l'Abruzzo e il Molise, prima era una, poi due, la stessa Val d'Aosta, perché c'è la parte alta del Piemonte che vorrebbe diventare una regione Savoia, il Trentino Alto Adige non arriva a 400 mila abitanti, cioè siamo, è un paese strano il nostro, allora razionalizziamo con le stesse risorse, ho detto di più, l'attuale consiglio regionale della Puglia conta 70 consiglieri regionali, 70, più il Presidente, 71, ho detto portiamoli a 40, 20 per la regione Salento e 20 per la regione Federiciana più il Presidente, e risparmiamo. più i Presidenti, 20 e 20, più 1 e 1, invece di 71, 42. Vediamo se può bastare questo. Ma guardate, queste utopie naturalmente, perché occorrebbe non confutare questo mio pensiero, ma mettersi con chi ne sa molto di più di me ovviamente, con i costituzionalisti, con gli uomini di legge, coinvolgendo anche delle istituzioni forti, come per esempio lo stesso mondo scolastico, la magistratura, devono far parte di questo sistema. I pilastri della nostra società, per quanto mi riguarda, sono la scuola, la giustizia e la sanità. Noi abbiamo delle eccellenze in questo settore, che devono contribuire, dare una mano a ridisegnare, a rimodulare il nostro Paese, sotto ogni aspetto. Ecco l'importanza di mettersi intorno a un tavolo, di vedere, siccome questa è utopia, neppure i miei pronipoti vedranno un sorgere di si fatta natura. Del resto sono passati più di 60 anni dalla Costituzione italiana, da quando è stata fatta l'Italia, dal 1946, quindi siamo già a 66 anni. Nel 1948 avevamo una Costituzione fatta in due anni. Pensate che per esempio nell'ambito della provincia di Bari, per modificare lo Statuto, sono trascorsi già tre anni e non l'abbiamo ancora modificato. La Costituzione italiana fu fatta in due anni, con gente, uomini di Stato. oggi la si sta da tempo, la si sta picconando, come diceva Cossiga. Stanno venendo fuori pezzi, stralcioni, non c'è una visione globale, a seconda degli interessi. Questo è un peccato, perché non si garantisce una tranquillità, una serenità, un futuro certo ai nostri giovani. La longevità della burocrazia al pari però anche della longevità dei pugliesi e questo chiaramente ce l'incuora, solo che forse non tutto dovrebbe essere longevo, almeno ci auguriamo che la burocrazia possa essere, avere delle aspettative di vita molto più brevi, visto che... Ma la burocrazia segue un po' l'andamento politico, l'andamento politico è un andamento ondulatore, cioè si galleggia e si perde tempo. Un andamento molto lento, per citare il titolo della canzone. Allora, 08501 9998 per intervenire in diretta andiamo avanti perché siamo alla vigilia di un appuntamento importante, quello delle amministrative si vota in molti comuni del Barese il prossimo 6 e 7 maggio, quindi domenica e lunedì. Che aria tira per il centrodestra, Presidente?